Giorno 5, sabato. Il previsto abbassamento delle temperature è rimasto negli annunci dei meteorologi. Il risveglio è pesante, impastato al caldo, la t-shirt ha il collo intriso di sudore, fastidioso sulla pelle. Ai piedi del mio letto un introso, vestito di bianco. Si può sapere stanotte che cazzo avete combinato? Allude ai letti di Giorgio e mio, distanti in un più di 30 centimetri. Per fortuna non ci ha ritrovati ancora mano nella mano. Non abbiamo combinato niente, stanotte Giorgio ha avuto gli incubi e ha avvicinato il letto, tutto qui. L'infermiere prende nota dell'informazione. Tanto sovrappeso Pino quanto secco ha lampanato lui. Lungo le braccia mingerline un dedalo divene in bella vista, anche per il colorito verdastro. Se non avesse la divisa addosso lo scambierei senz'altro per un paziente. Come dici tu, adesso però rimetteteli a posto, anche il comodino. Ma Pino stamattina non c'è. Un risolino di fronte alla mia domanda. Sì, del sabato aspetta che lo trovi. Qui a psichiatria regnano regole diverse dal resto dell'ospedale. Qui si fanno turni fissi, ma fino al venerdì. Il fine settimana è a rotazione, tocca agli ausiliari, a quelli come me che non hanno un reparto assegnato. I vagabondi, insomma. Quindi anche Rossano e Lorenzo non ci saranno? Lui annuisce. Teoricamente no, però se ci scappa il turno d'estraordinario, magari festivo, capace che te li ritrovi in reparto, soprattutto domani che è domenica. Sobbe i soldi in più in busta paga. L'infermiere reputa finita la conversazione, ma per me non lo è ancora. Scusa, come ti chiami? Sembra brutto non chiamate per nome. Alberto. Velocemente inizia a servire la colazione. Giorgio continua a dormire, del dialogo mio con l'infermiere, della luce ormai dilagante, il caldo già schierato, non si è nemmeno accorto. Dal bagno arriva il rumore della doccia e il canto aggraziato di Gianluca, impegnato in una canzone, se non sbaglio, di Michael Jackson. Madonnina dorme ancora, anche lui in un mare di sudore, mentre Alessandro non ha spostato di un millimetro i suoi occhi. Il mio silenzioso appello finisce su Mario. Anche questa mattina, come le altre, il suo risveglio mi sembra appesantito da chissà quale pensiero. Un'afflizione malcelata gli segna il viso. Intanto mette ordine sul suo comodino. Tutto deve essere collocato con precisione assoluta. Le scatole di medicine, il tovagliolo, le posate. Buongiorno, Mario. Quanta rassegnazione nel sorriso con cui ricambia. Tutto bene? Come risposta torna a occuparsi del suo comodino. Mi alzo e gli vado vicino, dalla finestra aperta non un filo d'aria. Il nido dell'uccellino è vuoto. Chissà, magari anche lui aveva caldo e ha deciso di spostarsi più su, verso le Rocche, Monte Cavo. Da vicino mi metto a osservare quello che a tutti gli effetti può considerarsi un rituale. I gesti di Mario, infatti, sembrano seguire uno schema preciso. Lui si accorge del mio sguardo. Cerco di mettere ordine almeno dove riesco. Il disordine non me lo posso permettere. Ne ho troppo dentro per vederlo anche fuori. Da vicino noto il tremore delle mani, gli occhi febbrili. Tutto bene, ma? Lo sguardo che mi restituisce vale più di ogni risposta. Tutto bene, no. Diciamo tutto solito, da anni e anni. Si può resistere. Nient'altro. In certi giorni quello che conta è arrivare vivi a sera. Cerco di trovare parole per rispondergli, ma non ne trovo. Lui, dopo aver finito il suo rito dedicato all'ordine, si siede sul letto. Invita anche me a farlo. Sono divorato dalla paura. Una delle più grandi mi prende di notte. Ho paura che la pazzia mi arrivi nel sonno. Lo sai che è possibile? Non l'avevo mai sentito. Per me le notti sono terribili. Convivere sempre con gli stessi incubi. Sapere che torneranno all'infinito. Prima o poi mi sveglierò e non sarò più in grado di fare ordine. Mario inizia a piangere. Non lo aveva mai fatto davanti a me. Mi stritolo le mani pensando a qualcosa da fare, da dire. Ma resto in silenzio, immobile. La paura di impazzire è peggio della pazzia. Mario avrà il triplo dei miei anni. La sua visione sarà corredata da mille ricordi più dei miei. Ma anch'io so che significhi quella paura. L'ho sperimentato anch'io il limite. Quando tutto della realtà perde di significato. Quando la realtà stessa si sbriciola, smaterializzata di fronte ai tuoi occhi. La sera che mi ha portato qui, per esempio. Restiamo entrambi a contemplare la nostra personale visione della pazzia. È Mario a ridestarsi per primo. Mi stacca quasi con violenza da quello che scorre nella mia mente. Non farti sedurre dalla paura. Pensa al fuoco. Se lo guardi per troppo tempo, se ti avvicini troppo, alla fine ti brucia. Cerca di tranquillizzarmi con un sorriso. Ieri sera, anche stanotte, ripensavo alla tua poesia. E ripensavo ai poeti. Io credo che gli artisti abbiano in comune coi matti una cosa. Nessuno può dirgli cosa guardare e come guardarlo. Chiamala libertà, se vuoi. Allo stesso modo, niente e nessuno può lenire il loro dolore. Io ho la mia teoria su questo. Mario è colto da una specie di imbarazzo. Lui, di solito così convinto nelle sue parole, nei suoi ragionamenti di cristallo, ora tentenna. È una cosa grossa da dire a un ragazzo. Io credo che gli artisti, come certi matti, abbiano dentro di sé il seme di un ricordo lontanissimo. Qualcosa avvenuto prima di tutte le storie. È la bellezza la scintilla di tutto. Io, ecco, credo che in certi uomini sia rimasto un ricordo, sgranato, finito nel subconsciente. Questi uomini guardano tutto per come era veramente, prima di quella cosa che è successa e che ha cambiato tutto. Cerco di capire, ma non ci riesco. Mario stenta, sembra non voler continuare. Perché? Cos'è successo? Sei tu che me l'hai detto. Giudicare non serve, sta tranquillo. Alcuni uomini, non so se benedetti o maledetti, scorgono nella bellezza il suo valore originario. Parlo del paradiso, perché questo era il paradiso. Ma noi abbiamo peccato, e così è arrivata la morte, il tempo. Non lo sanno questi uomini, ma la nostalgia che sentono di fronte alla bellezza è nostalgia di quel prima, del paradiso, di Dio. Mario torna a respirare. Adesso sono io ad aver perso improvvisamente la voglia di parlare, di fare qualsiasi cosa. Lui se ne accorge e mi prende delicatamente per una spalla. Le mie sono le farneticazioni di un maestro di scuola elementare messo a riposo. Una cosa, però, tienila sempre a mente. Curati, chiedi aiuto quando serve, ma lascia il tuo sguardo libero, non farti raccontare il mondo da nessuno. Annuisco. Davanti a Mario i miei vent'anni si dimezzano. Mi rivedo a malapena decenne. Ogni volta le sue parole toccano parti del mio corpo di cui ignoravo l'esistenza. Scomodare il paradiso in terra. Il peccato originale. Cosa dire? Ma non sono proprio io a desiderare un significato per tutto. Se fosse proprio questa la radice, piantata talmente a fondo da sentirla senza poterla vedere, perché non posso negarlo a me stesso. Io quella nostalgia la sento. La vivo. Come vivo l'incapacità di accettare il tempo che passa, di sentirlo posticcio rispetto a tutto quello che nel mio cuore vuole vivere per sempre. Mi ritrovo un nuotatore sospeso nel mezzo di una fossa oceanica. Io, puntino di vita senza prodo alcuno. Sotto di me chilometri di acqua nera. Gelida. Pronti ad abbracciarmi per sempre. Lungo il corridoio, nel tentativo vano di staccarmi dalle considerazioni di Mario, mi ritrovo di fronte un uomo in camice, basso, tarchiato, abbronzato come un bagnino a fine stagione. Gli si affianca l'infermiere vagabondo, Alberto, in mano una pila di cartelle cliniche. Vai subito al tuo letto. A breve passa visita il primario. Quindi il medico basso e abbronzato è il primario. In stanza condivido con gli altri l'avviso che mi è stato dato. Sembriamo improvvisamente una scolaresca in gita che tenta di mettere ordine in vista dell'arrivo dei professori. Giorgio è quello più indaffarato. Per prima cosa rimette il mio comodino al suo posto, poi toglie dal letto i calzini sporchi e la canottiera con cui era entrato, lasciata a marcire ai piedi del materasso. Gianluca, invece, da buona massaia, piega alcuni capi d'abbigliamento che aveva lasciato su una sedia per riporli con cura nel suo armadietto. Maria, ho perso l'anima! Aiutami, madonnina mia! Madonnina, forse contagiato dall'improvvisa frenesia, non fa nulla oltre replicare la sua invocazione. Sono io a metterlo a letto. Preceduto dall'infermiere, ecco entrare in stanza il primario. Il fido scudiero passa per ogni paziente la cartella clinica, un veloce sguardo da parte sua, poi una firma con la sua monblanc d'ordinanza. Non una parola spesa, non un'espressione facciale che sia una. Solo davanti a Mario il primario alza lo sguardo. Come va? Finalmente la sua voce. Neutra, in colore. Come sempre, né peggio né meglio. Mario ha risposto con la sua naturale gentilezza. Il primario si ferma a studiarlo. Dall'ultima volta che ci siamo visti è passato parecchio tempo. Io la vedo meglio, magari sbaglierò. Ma sembra più sereno, anche un po' ingrassato. Si è deciso a mangiare per bene? Vivere solo di mele cotte è triste, no? Mario sorride, sembra allusingato da tanta attenzione. No, per me vanno bene le mele cotte. Sto bene così. Il primario, per nulla convinto né contento, alla fine annuisce. Come vuole. Durante la settimana sto in ambulatorio per le visite, ma se vuole parlarmi, chiedere qualcosa, lo dica agli infermieri e io salgo. Grazie, professore. Non mancherò. Il primario e l'infermiere escono dalla stanza. Ah ma, ammazza! Che avete fatto la comunione insieme? È stato così gentile, a noi manco una parola. Gianluca, facile alla gelosia, si è rivolto a Mario neanche troppo scherzosamente. Ci conosciamo da tanti anni. Lui è stato il medico del mio primo ricovero in questo ospedale. Tu eri ancora un bambino. Intanto, dalla finestra, un odore intenso di bruciato. La sentite pure voi, sta puzza? Mario si affaccia, io lo raggiungo. Non molto lontano, disperso nella campagna ai piedi dei castelli romani, un rogo enorme. C'è un incendio, ma è distante. Sono io a rispondere a Giorgio. Se possibile, l'aria fuori è ancora più calda di quella dentro la stanza. Resto a fissare le fiamme e avvitarsi nel cielo. Sempre più alte. Stasera la nazionale gioca la sua prima partita ai mondiali, contro l'Irlanda. Per giunta è sabato sera. Un'amarezza incontenibile accompagna questo quinto giorno di TSO. Scene su scene prendono vita addosso alle pareti bianche del corridoio. Vedo i miei amici in formazione completa, tranne me ovviamente, pronti a godersi la serata e la partita, al colmo del divertimento. Poi tutti verso Roma, o il mare, a finire una nottata appena cominciata. Invece eccomi qui. Solo. Senza attese da consumare. Senza uno straccio di idea che mi permetta di far passare il tempo. Il piagnucolio lungo il corridoio si ferma all'altezza della porta che separa noi dai cattivi, in realtà dalle donne. È aperta. Forse l'ha lasciata così Alberto durante il giro assieme al primario. Spingo la porta. Il corridoio è identico al nostro. Solo le foto alle pareti sono diverse. Da noi ci sono quelle dei castelli romani, da loro quattro scorci di Roma. I fori imperiali, il Colosseo, sull'altra parete il Pantheon e Caracalla. Come il corridoio, anche la collocazione delle stanze è identica alla nostra. Non arriva una voce, segno di vita qualsiasi. Senza rumore alcuno, esce dalla stanza dei pazienti una figura vestita di nero, di capelli corvini lunghissimi. La curiosità che non vuole cedere alla paura. Accosto, ma non chiudo la porta. È una ragazza. Il fisico robusto e fianchi larghi. Non si è accorta che la sto guardando. Un brandello diviso alla volta. Alle medie. Forse alle elementari. Oppure in una delle tante comitive prese e abbandonate. Io la conosco. Dovrebbe essere di Pavona o Albano. Anche lei sembra giunta nel corridoio per il mio stesso motivo. Perdere tempo. Svagare un po' con lo sguardo. Sembra tranquilla. Matta come lo sono io. Non come madonnina, per intenderci. Un centimetro alla volta apro la porta. Ora tutto il mio viso è affacciato. Mi ha visto. In lei rivivo la sorpresa che io stesso ho provato nel trovarmi di fronte un viso conosciuto. Il suo stupore sembra più grande del mio, forse perché lei non aveva ancora scoperto che i cattivi stipati dall'altra parte del reparto altro non sono che una menzogna. Un impercettibile cenno di saluto da parte sua, subito ricambiato. Un passo dopo l'altro si avvicina. Dovrebbe avere la mia età. Con lei, però, il tempo non è stato clemente. Sembra avere molti più anni. Non meno di trenta. Trentacinque. Che stai a fa' qua? Tento, per quanto possibile, di darmi un tono spirituoso, leggero. Lei alla mia domanda fa spallucce, non risponde. Intanto passo in rassegna la mia vita nel tentativo, vano, di collocarla nel luogo che ci ha messi uno a fianco dell'altro. Scusa, sarà sto posto, ma non riesco a ricordarmi. Io e te dove ci siamo conosciuti. Alla fine non mi restava altra possibilità. Lei ci rimane male. Non fa nulla per celare il dispiacere. All'oratorio, appavona. Su Valentina, non ti ricordi? Le parole hanno il potere di infilarsi nella memoria e di tirare fuori le immagini giuste. Le mie prime uscite di casa, appena quattordicenne, una scorribanda dietro l'altra. Certo! Eravamo proprio ragazzini. Lei sorride, si avvicina. Sì, ti ricordi di questo? Mi mette sotto agli occhi la mano destra. Grossa, scura. All'anulare, quasi ricoperto dalla carne, impossibile da sfilare, un anello. Resto a guardarlo tentando di attribuirgli un significato, qualcosa, ma non mi viene in mente nulla. Non ha alcun valore. Al posto delle pietre e dei pezzi di plastica. La sorpresa nelle patatine. Questo è l'anello di matrimonio. Mio e De Francesco. Ma lui è sparito. Un chiodo mi pianta davanti agli occhi una visione. Tutto diventa chiaro. Un pomeriggio estivo come questo. Il campo da calcio di Pozzolana, le cicale in coro, ma più forte di tutto la nostra voglia di ragazzi appena sbocciati. Una smania, un fuoco di sguardi verso le ragazze, i loro corpi sognati, mai toccati nemmeno con un dito. Francesco era il più grande, avrà avuto 16 anni, andava in giro su un vespino tutto modificato. Lui mi ha fatto l'amore. Tre volte. Poi non so che gli è successo. Io l'ho aspettato tanto. Alla fine l'ho detto a mamma e papà. Loro mi hanno iniziato a dire... Puttana, puttana! Io ho preso a sbattere la testa al muro, a mangiare il cartone. Ma Francesco ancora deve tornare. Io l'anello suo non l'ho mai levato. Guarda quanto è bello. Un senso di vertigine. Le vene dei polsi che battono, impazzite. La voglia che tutto sia solo un incubo infame. Valentina non può saperlo, ma il ragazzo che è davanti a lei, quello che tenta di nascondere il dolore guardando altrove, proprio lui, è uno dei responsabili. Un correo della sua malattia mentale, di tutta la sua vita. Ricordo perfettamente i preparativi. Francesco ci disse di averla puntata. Noi facemmo arrivare alle sue amiche la voce, che lui era innamorato perso. Lavorammo al piano parecchio. Ci vollero settimane per farla cadere. Come ricordo, altrettanto perfettamente, quello che successe dopo, le risate, i racconti, Francesco che diceva a cani e porci d'averla bucata per primo. Ma sono passati quanti? Sei? Sette anni? Perché non dimentichi sta storia? Te ne trovi un altro, del ragazzo? Perché non fai così? Mi rendo conto della stupidità delle mie parole, stupide per quanto logiche, magari fosse tutto così facile. Ma non sono io a parlare. È il rimorso di coscienza. È il tentativo disperato di volere in qualche modo chiudere ciò che si è principiato. Io amo solo lui. Gli occhi di Belva privata del senno. Lo stesso fuoco, nero, senza fine, intravisto in quelli di Madonnina. Che è stata a fa' Alberto, dall'ingresso, corre verso di noi, chiude con violenza la porta da cui ci stavamo parlando, senza nemmeno la possibilità di salutarci. Non te preoccupa, non è successo niente. Lui cerca di essere feroce, ma si vede che di noi e di questo reparto non gliene importa nulla. Alberto non sa che gli sono grato, infinitamente, per aver messo fine al mio incontro. Mentre vado in stanza, ripeto a me stesso che era solo un gioco fatto da adolescenti, una cosa senza cattiveria, simile a tante sentite, a tante altre fatte in questi anni. Come immaginare che una ragazzata scatenasse una follia del genere? Non entro in stanza, ma resto sul corridoio, a fissare il muro, distante dal mio naso non più di dieci centimetri. In realtà, fisso me stesso. Io so compiere gesti che fanno del male. Gesti che nella mia vita hanno transitato anonimi, indegni di entrare nella memoria, ma che hanno prodotto dolore in quella degli altri. Gesti che ancora vengono scontati. Di quanta cattiveria mi sono macchiato. Inconsapevole, indolente, apparentemente piccola, in realtà gigantesca, come quella sferrata su Valentina. Cerco, senza riuscirci, di ricordare gli altri che presero parte alla messa in scena contro di lei. Tanti di loro non sapranno mai che un gesto del nostro passato, una ragazzata compiuta in un'estate lontanissima, ha messo fine alla felicità di un altro essere umano. Chiedo perdono. Per tutto il passato, il presente, per quello che verrà. Ma chi chiederlo? Io non so perdonarmi. Non ci riesco. Un cazzotto al muro. Uno solo. Il botto che rimbomba nel reparto. La grandezza del rimorso che vorrebbe scagliarsi contro uguale grandezza, rabbia e ancora rabbia. Le ferite quasi rimarginate sulle nocche riprendono a sanguinare. Dalla medicheria si affaccia Alberto, dalla stanza Gianluca, poi Giorgio. Il botto veniva dall'altra parte. Non ci crede nessuno. Qualcosa di buono questo TSO lo ha prodotto. Non sulla mia salute mentale, questo è certo. Però credo di aver perso qualche chilo. Nel bagno mi guardo il viso, nascosto sotto la barba lunga di una settimana. Mi sembra di essere dimagrito. Non che sia così difficile da spiegare. Oggi ho saltato l'ennesimo pranzo. Dopo l'incontro con Valentina mi è passata la fame, mi è passata la voglia di fare tutto. Ho cercato con lo sguardo Mario, sperando intuisse il mio stato d'animo, ma era impegnato con il suo uccellino. Gli sorrideva, sussurrava cose. Al posto del secco Alberto, ora c'è un'infermiera, anche lei ausiliaria, scortese. Non sono riuscito neanche a chiederle il nome. Sta chiusa in medicheria da quando è arrivata, magari dorme, oppure si sarà inchiavata dentro perché terrorizzata, arresa al suo destino che gli ha dato in dote un turno nel reparto dei matti. Per giunta con questo caldo. Ci sa, caldo e pazzia non vanno d'accordo, o forse ci vanno troppo. Esco dal bagno e contemporaneamente torno a respirare. In questa settimana, causa tanfo di varia natura, mi sono allenato qualora volessi ricominciare con la pesca sportiva, l'apnea, uno dei tanti sport presi e lasciati. Starò almeno sul minuto e mezzo senza respirare. Finalmente si affaccia all'infermiera, le vado incontro e lei, questa è la sensazione, si ritrae impaurita, porta istintivamente le mani al ventre. Che c'è? Anche la voce sembra confermare la mia sensazione. Volevo sapere a che ora vedo Cimaroli. Mi serve come il pane parlare con qualcuno che sappia darmi quello che io non riesco a concedermi. Un poco di indulgenza. Stai qua? Rientra in medicheria, sento la sua voce rimbombare nella stanza, al telefono. Esce. Il sabato e la domenica non ci sono sedute, comunque domani pomeriggio Cimaroli è di guardia. Prendo atto della notizia con rammarico. Grazie. Come ti chiami? Alessia? Guardo meglio, più a fondo. L'infermiera è una ragazza corpulenta, le sue braccia sono più grandi delle mie, ma la pancia ha una rotondità particolare, le sue mani in continuazione ci corrono sopra. Sei incinta? Lei, se possibile, si spaventa ancora di più. Sì, quasi al quinto mese. Sembra sentirsi scoperta. Bello. Sei già se è maschio o femmina? Maschio. Chiamalo Daniele, come me. Sorride. Matteo. Resto sul corridoio a immaginare la vita a crescere dentro il ventre di Alessia. Liquida. Scintillante. Un uomo pesce legato alla madre che si nutre attraverso di lei che respira la sua stessa aria. La carne che portiamo è di nostra madre. Il mio viso, il cuore, le mani sono cellule che ho preso in prestito da lei. So io. Come te senti? Quando te fanno sci? Se tutto va bene lunedì sto fuori. Che hai fatto? Perché c'è sta voce? Sapevo che mia madre si sarebbe accorta all'istante della mia prostrazione. L'ho chiamata per questo. Ho incontrato una ragazza, sta pure lei a psichiatria. La conoscevo. Com'è che sta lì? È proprio questo il punto. Te che c'entri? I suoi poteri fanno saltare alla discussione tutta una serie di convenevoli totalmente inutili. c'entrò tutto e niente. Anni fa lei è stata con un ragazzo che non aveva intenzioni serie. Si voleva divertì insomma. Lei invece ci è rimasta male. È impazzita. Capito? E te in tutto questo? Io sapevo che lui si voleva solo divertì. Alle amiche di lei ho detto che era innamorato. Era tutto un piano per farcela crede. Mia madre crocifigge con il silenzio. Me la vedo mordersi il labbro per la delusione e il nervosismo. Ma ci sei? Bravo. Sei stato bravo. Eppure hai una sorella. Se l'avessero fatto a lei. Sei mai chiamato perché pensavi che t'avrei alleggerito la coscienza e sbagliato. Tra tutti i mali quello fatto per gioco con leggerezza è il peggiore che esista. Il crollo è verticale. Il pianto furioso affolate sempre più forti. Mi dispiace. Non so che altro dire. La sento respirare dall'altra parte. Esse uomini non significa scala le montagne ma ave la consapevolezza che ogni gesto ha un valore nel bene come nel male. Cerco di fermare le lacrime e me lo ordino ma è totalmente inutile. Restiamo così. Io a masticare pianto in silenzio lei. Vuoi che vengo? Sto un po' lì con te. Nella voce di mia madre è ricomparso l'amore di sempre quello che fa alzare il sole la mattina e ordina con precisione le maree. No ma ormai manca poco ci vediamo a casa. Ora pensa sta meglio cerca di mangiare se non riesci a volere bene a te stesso non potrai mai voler bene a nessuno. Nella sala della televisione davanti allo schermo spento tento di togliermi dalla mente il viso di Valentina. Me la immagino dall'altra parte del muro distesa sul letto presa a rimirare l'anello avvinghiato al suo dito anche lei come ogni altro maledetto pazzo qui dentro inchiodata al suo passato alla scintilla che ha fatto saltare tutto. Freddamente mi dico che Valentina non è diversa da Alessandro e chissà quanti altri. In lui la malattia mentale si è scatenata attraverso un tramezzo tirato su in lei con il reggiro di un ragazzo e la sua falsa dichiarazione d'amore. Ma questo non sgrava di un grammo la mia responsabilità da gregario infame piccolo. Capisco che uno solo sarà il giudice in grado di perdonarmi. Il tempo perché nessun altro può farlo perché non lo merito. Una volta fuori di qui mi riprometto che proverò a cercare la famiglia di Valentina. Vi racconterò cosa accadde veramente tanti anni fa. Questo non le restituirà la salute mentale ma i genitori devono sapere devono rimangiarsi le ingiurie perché lei non era una puttana ma solo una ragazza come tante altre colpevole semmai d'essersi innamorata del ragazzo sbagliato. Vittima di un male inferto per gioco e per questo ancora più imperdonabile. Ho deciso di farmi una doccia le ultime ore hanno lasciato il segno sono appiccicoso unto ho bisogno di fare pulizia vedermi diverso da come mi vedo ora anche se farmi la doccia nel bagno della stanza non è piacevole come a casa. apro la porta impiego qualche secondo per capire davanti a me ho Giorgio inginocchiato davanti a lui Gianluca richiudo immediatamente la porta credo che la doccia sia rimandata vado meccanicamente verso il mio armadietto inizio a risistemare i jeans la maglietta niente di veramente necessario dopo diversi minuti escono dal bagno Giorgio l'aria rilassatissima mi assesta una pacca sulla spalla si butta sul letto non sembra minimamente imbarazzato si mette a fissare il soffitto lo sguardo trasognato Gianluca senza mai guardarmi va verso il suo angolo poi si siede accavalla le gambe secche inizia a carezzarsi i capelli rosso sporco lui a differenza di Giorgio appare in difficoltà silenzio per quanto ho vissuto con Valentina perché non posso permettermi altro malessere o lite o incomprensione perché in questo momento ho bisogno di altri esseri umani anche se pazzi che mi accolgano presso di loro che sappiano aprirsi in parole sorrisi la sera gioca l'Italia Gianluca coglie al volo la mia offerta di normalità è vero se la vediamo assieme annuisco lui si tira su dal letto la ragazza dentro di lui smania dalla felicità pure io me la voglio vedere con voi Giorgio si è autoinvitato alla festa se può voler qualcosa di più dalla vita Gianluca dall'eccitazione non riesce a stare fermo gli vorrei rispondere che sì si può volere tanto di più dalla vita invece mi unisco alla sua gioia in questo momento è acqua in mezzo al deserto niente e se può voler di più l'idea nasce di fronte all'ennesima minestrina in brodo anche sul viso degli altri parlo dei lucidi che non vivono solo di melecotte ovvero Giorgio e Gianluca colgo la stessa amarezza davanti a quella brodaglia tiepida e poi il ricorso al tubo di biscotti mi ha stancato nauseato mi è venuta un'idea suono il campanello chissà se quello che ho in mente è possibile dalla medicheria si affaccia Alessia resto sorpreso com'è che stai ancora qui? il turno del pomeriggio non dovrebbe essere finito faccio pomeriggio e notte poi riposo domani e dopodomani le notti valgono oro perché hai chiamato? gli occhi di tutti convergono su di me io ci avrei una richiesta in una settimana ci hanno intossicato dei minestrine poi stasera c'è la nazionale non è che posso ordinar una pizza magari se la vuole pure qualcun altro come fiori al sole del mattino il primo è Giorgio seguito da Gianluca ma è proprio Alessia ad aprirsi nel sorriso più convinto poi un'espressione di volutà mischiata a fame incontenibile non so se è possibile ma è lei per prima a volere la pizza te prego Gianluca unisce le mani si produce in un'accorata teatrale implorazione Giorgio subito dopo fa lo stesso che male facciamo? mica c'è un regolamento che vieta i pazienti di psichiatria di fasse portare una pizza Alessia ragiona sulle mie parole si non è mica scritto da qualche parte che non potete ordinare una pizza ora dovrebbe venire la parte più semplice ma le difficoltà quando si passa da teoria a pratica ci sono sempre la più importante voi ci avete qualche lira? Giorgio e Gianluca si guardano sorpresi stralunati io ci avrò quattro al massimo 5.000 lire io stocco 500 lire spicce tra i due è Gianluca il benestante dall'armadietto tiro fuori 20.000 lire me le ha messe mia madre nel borsone per le emergenze io c'ho queste con i vostri ce dovremmo arrivà sventolo in aria le banconote Giorgio e Gianluca esplodono in urla scomposte eccitate mi vengono ad abbracciare baciare se poi manca qualche migliaio di lire ce le metto io Alessia affamata chiude il discorso anche lei felice come noi matti due margherite per Alessia e Gianluca una capricciosa per Giorgio una quattro formaggi per me con i soldi che avevamo siamo riusciti a prendere anche i supplì abbiamo provato inutilmente a coinvolgere Mario nella cena straordinaria ma proprio non ha voluto anche lui comunque si è beato della nostra felicità soprattutto alla consegna delle pizze saltavamo nella stanza come ragazzini impazziti dalla gioia la più vorace è stata Alessia per far fuori pizza e supplì avrà impiegato al massimo cinque minuti una fame doppia non per modo di dire anche Giorgio si è difeso i più lenti Gianluca è il sottoscritto Gianluca ha mangiato la pizza da regina madre con forchetta e coltello io mi sono imposto ordinato la lentezza per gustare il più a lungo possibile ogni boccone la partita colpa del fuso orario inizia alle dieci passate Alessia ha rotto i cartoni della pizza li ha ridotti a un mucchio di pezzi piccolissimi poi ha infilato tutto nei contenitori dei rifiuti speciali così nessuno potrà mai trovare traccia della nostra cena dopo aver pulito ci ha dato la buonanotte noi abbiamo ricambiato due volte per lei e il suo Matteo l'Italia parte male sembra la contratta senza gioco passano poco più di dieci minuti e andiamo sotto uno a zero troppo facile incolpare Pagliuca l'errore vero è stato di Baresi non riusciamo a reagire anzi sono gli irlandesi a credere al raddoppio la partita scorre senza un sussulto Giorgio e Gianluca inoltre non sono molto appassionati non è certo come vederla con i miei amici o con mio padre e mio fratello il triplice fischio ci inchioda la sconfitta il gioco di sacchi non è da nazionale avevano ragione i suoi tanti detrattori delusi soprattutto io torniamo in stanza ma la serata è stata bella abbiamo mangiato bene ci siamo sentiti liberi com'è finita? Mario ancora sveglio ci chiede il risultato dalle espressioni sui nostri visi capisce quanto? uno a zero anche lui si dispiace a piccoli passi viene verso di me a parte per andare in bagno raramente l'ho visto allontanarsi dal suo angolo ti posso chiedere una cortesia? certo Mario fa un cenno di ringraziamento è intimidito non è che mi potresti dare un biscotto lo vorrei dare al passero glielo sbriciolo e gliene do un po' per volta con questo caldo ho paura faccia fatica a trovare da mangiare mi allungo verso il tubo di biscotti gliene passo un paio se te ne servono altri dimmelo la gratitudine che Mario sa restituirmi dovrebbero vederla almeno una volta nella vita a tutti gli esseri umani esistenti come un'opera d'arte un capolavoro della natura la partita è finita a mezzanotte passata dopo al massimo una mezz'ora tra chiacchiere e farneticazioni varie i miei compagni di stanza si sono addormentati tutti solo uno è rimasto sveglio l'immagine di Valentina è impressa all'interno delle palpebre anche la felicità che ho condiviso con i miei compagni di stanza si è tramutata in sofferenza non che sia così infrequente anche quando sono a casa o con i miei amici assisto a questa trasformazione dalla gioia alla malinconia la tristezza a farmi soffrire è l'idea che la vita vissuta finisca nel nulla che non ci sarà modo di riviverla di rivedere tutti Maria ho perso l'anima aiutami madonnina mia come al solito mi fa saltare madonnina è steso sul letto malgrado il caldo non sia arretrato di un centimetro trema dal freddo almeno penso sia questo il motivo prendo il lenzuolo lo copro fino al collo mi guarda con i suoi occhi di pena sprofondati in una notte perenne come quelli di Valentina dormi madonnina